Allora, siamo con Pierfranco De Marco, presidente del Proloco La Perla. A Maratea c'è stato un bel evento che è durato due giorni, che si è chiamato Smile, che ha coinvolto l'Alsia e anche, oltre al sindaco di Maratea, ovviamente anche il sindaco di Senise. Pierfranco, spiegaci un po' le motivazioni di questo evento. Allora, noi siamo partiti dal cercare, come ogni anno, un modo per promuovere al meglio Maratea. Quest'anno, con la collaborazione con due organizzazioni, l'Alma della Produzione e la Twin Communication, la Proloco di Maratea ha ideato questo prodotto, Maratea Smile. Si è diviso in vari eventi. Lei, direttore, ha parlato di Smile Food, quello che è avvenuto domenica pomeriggio in Piazza Sisigni, cioè l'incontro tra l'Arsia, la Proloco, il comune di Maratea, il comune di Senise e il comune di Rotonda su quello che è la valorizzazione dei prodotti tipici nell'area sud della Basilicata. In realtà, Maratea Smile è partita dal giorno prima con un concorso di talenti legati al cabaret, chiamato Smile Talent. Questa iniziativa andrà in prima serata su Nuvolari TV e su altre televisioni locali, sul circuito Sky, quindi è per noi un motivo di promozione forte di Maratea. Ha avuto un padrino di eccellenza, quale Mino Abacuccio di Madenzud, e una giuria di eccellenza guidata dal patron del cantagiro Enzo De Carlo. E si è conclusa Maratea Smile con lo spettacolo del nostro padrino, domenica sera, sempre a Parco Tarantini. Presidente, tu hai i minuti contati perché c'è un altro evento che sta per iniziare, però proprio in maniera ultrasintetica, in due minuti, un minuto e mezzo. Ecco, il mese di agosto, da un punto di vista turistico e culturale, è stato vissuto a Maratea? Molto bene. Maratea ha retto anche nell'agosto 2016. Ho sentito nella mia operare da Presidente della Proloco, ho ascoltato i vari imprenditori che ho potuto incontrare davvero positivamente su questo sul mese di agosto, i dati sul mese di agosto. Forse il problema resta lo stesso che è quello di provare a destagionalizzare. Ognuno di noi, con i propri compiti, dall'amministrazione agli enti superiori, alle associazioni di promozione di Maratea, come può essere la Proloco, dobbiamo essere bravi ad invitare e a canalizzare il turista anche dei mesi che non siano legati all'altissima stagione come appunto agosto. L'effetto Matera si sente con maggiore forza? Non lo so. È una domanda che andrebbe analizzata con intelligenza, almeno per quanto riguarda Maratea. Di certo quello che si preannuncia possa essere un modo per avvicinare Maratea e Matera, le due città del turismo lucano più importanti, cioè quello di metterle subito in contatto con un elicottero, quello che è proposto dalla presidenza dell'Aggiunta regionale, la presente Marcello Pittella, io l'ho accolto con molto favore. Noi della Proloco, e credo il mondo delle Proloco lucane, sarebbe interessantissimo fare la propria in un rapporto quindi di accoglienza del turista che arriva con l'elicottero e pone questo scambio Maratea-Matera e viceversa e promuovere non solo le due città ma tutta la Basilicata. Ecco, per concludere, Pierfrango, l'estate c'è una canzone che diceva l'estate sta finendo, ecco. Quale, diciamo, a livello esperienziale, no? Quale situazione è accaduta che ti ha insegnato qualcosa quest'anno, magari, che ne so, un errore da non ripetere, una iniziativa invece magari da rafforzare perché ha funzionato bene? Guarda, quello che a me piacerebbe, capisco che è difficile, forse impossibile per la politica regionale più che locale, fare è quello di intraprendere un percorso che possa portare ad anticipare l'estate a livello di promozione. Mi spiego meglio, andare alla BIT di Milano a febbraio o in sedi similari con un programma Maratea, un programma Basilicata ben steso che riguardi l'estate, ma ripeto, non 1-30 agosto, ma 1 maggio-30 ottobre almeno, ecco, quello potrebbe essere davvero un'opportunità reale per l'imprenditore turistico, per il lavoratore, per la città di Maratea e per l'intera Basilicata. Per concludere sappiamo del premio Nitti che ci sarà all'inizio di ottobre, mi pare il primo ottobre, è una bella iniziativa perché davvero Maratea ha avuto questo privilegio di poter ospitare una personalità politica importantissima. Certo, è un'opportunità, io personalmente continuo a battere sul concetto della qualità, questo che citi è sicuramente un programma che rientra nei prodotti di alta qualità, e credo che la qualità porti qualità, cioè il turista che arriverà sarà un turista attento al bene che ha davanti, perché Maratea è un bene non solo perché ha spiagge e mare, anche quello è un bene importante perché è un mare con 5 vele legambiente, è un mare bandiera blu da 20 anni, quindi è un mare prestigioso, però Maratea offre tanta cultura e tanta storia, a partire da quella più moderna che può essere il Cristo di Maratea che ha compiuto l'anno scorso 50 anni, arrivare alle 44 chiese, in ognuna si trova un pezzo di cultura, un pezzo di storia, ad arrivare poi alle grotte di Marina di Maratea, insomma davvero ai ritrovamenti archeologici marini, Maratea davvero da offrire e quindi qualità porta qualità va benissimo. Grazie.